Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove per lavori sono possibili disagi tra Ginestra, Fiorentina ed Empoli Est, in entrambe le direzioni. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo-Fiorentino è chiuso, un'entrata in entrambe le direzioni e in uscita, provenendo da Firenze. Sempre in FIPILI, rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 17, tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo-Fiorentino, in direzione Livorno. Spostando Cina, uno in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Ancora in direzione Bologna, rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 265-500, tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!